5 secondi, 3 secondi, Miranda si risiede in panchina e finisce probabilmente 0-0, i 3 minuti passano, l'Inter neanche batte, l'arbitro ha il fischietto in bocca, si tratta di Collum e adesso 3 fischi a sancire, questo 0-0 nella gara di andata che arriva adesso a Imtract Francoforte 0, Inter 0, si deciderà tutto nella gara di ritorno. Il commento di Sergio Brio. Sì, si deciderà tutto nella gara di ritorno, dovremmo vedere anche, vorremmo vedere un'Inter più offensiva, questa sera ha cercato soltanto di portare a casa lo 0-0, c'è riuscita un ottimo risultato, ho visto anche le premesse di questa gara con un Imtract Francoforte che era reputata una squadra fortissima, specialmente in casa ma anche fuori casa e devo dire che è un 0-0 che l'Inter può essere contenta, meno contenta l'Imtract perché sperava di fare almeno un gol, peccato per quel rigore sbagliato da Brozovic Grazie a tutti.